Scegliere l'università è molto più di scegliere cosa studiare. È capire chi sei, cosa potrai diventare e magari scoprire un interesse o una vocazione cui non avevi mai pensato. Non importa da dove parti, importa dove vuoi arrivare. All'Università di Ferrara scoprirai di avere tante possibilità. Perché siamo un'Atena innovativo e in crescita. Per questo ci scegliono da tutta Italia. Ferrara è una città vivace e su misura per te. Il luogo ideale dove cominciare insieme a scrivere la tua storia. E vedrai, sarà una gran bella storia.